Premio Strega 2024, i sei finalisti, oggi siamo qui al Teatro San Carlo della Fondazione Collegio San Carlo di Modena con Chiara Valerio, grazie per essere qui con noi, per Chi dice e chi tace, Edito Sellerio ci fa una breve sinossi di questo libro? Chi dice e chi tace, credo, racconti la storia di una donna che si incapriccia di un'altra donna che però nel frattempo è morta, comincia con una morta in un paesino piccolo l'ambientazione degli anni 90 e la cosa interessante è che mi sembrava scherzosamente macabro scherzosamente realista dire che in effetti quando incontriamo una persona della quale ci innamoriamo trasportiamo su di lei desideri, aspettative, talmente tanti desideri, aspettative che la sotterriamo la seppelliamo, tanto che se quella persona è già morta non ce ne frega niente quindi il nostro amore è più importante di qualsiasi cosa il romanzo è una struttura del giallo perché mi piaceva dare alla ricerca interiore e alla fanno interiore che c'è ciascuno quando si innamora di qualcuno non ricambiato qui è impossibile essere ricambiati perché appunto Vittorio è morta mi sembrava che il giallo desse a questa ricerca interiore una struttura più sincera e nel titolo era chiuso anche un po' il libro stesso perché ci sono due categorie di persone che di fronte all'evento tragico decidono di reagire in modo diverso chi tace, chi accetta, chi capisce che è un evento triste e che invece chi dice, l'avvocato, l'avvocata, che decide di indagare perché come diceva bene lei non si dà pace quasi che sia mancata in questo modo in una vasca da bagno forse questo tendere a idealizzare troppo una persona ci fa quasi dimenticare la persona stessa sicuramente, non so se idealizza, sicuramente si innamora di, forse imparzialmente anche idealizza è un capriccio però, è un capriccio amoroso non è un'intenzione di bene, è un capriccio e come tutti i capricci cercando di soddisfarlo capisci qualcosa di te che non è sempre bello chi dice chi tace è un titolo che fa eco, un titolo che amo molto di una scrittrice che amo molto si chiama Ruth Randall scritto Some lies, some dies, chi mente e chi muore dopodiché mi sembra che dire le cose, non dirle, fraintenderle, ripeterle, variarle e in qualche modo dimenticarle o far sì che gli altri le dimenticano che ciò che succede nel romanzo e in ciascun paese mi sembra che sia abbastanza assonante a come si comportano gli esseri umani cioè a tutti noi grazie Chiara per essere stata con noi grazie siamo qui con Dario Voltolini, autore di Invernale, edito La nave di Teseo sempre al premio Strega 2024 benvenuto, grazie per essere qui con noi le chiedo una breve sinossi del suo libro è molto semplice, sono gli ultimi anni di vita di mio padre la scena è fino agli anni 70, inizio agli 80 e prende circa 5-6 anni dall'inizio di una malattia fino alla morte e questo rapporto col padre che era vissuto ventenne questa figura, il padre per tutti noi è una figura di esempio una figura chiave della nostra vita che piano piano perde forza per via della malattia che appunto contrae sul posto di lavoro questo libro è sia un risultato, una memoria per suo padre ma è stata anche una sorta di catarsi per lei scriverlo? ma è stata una memoria, una celebrazione, un ricordo di lui di catartico non ho avuto nulla per quanto riguarda le emozioni perché quelle sono quelle che sono sempre state in questi anni però diciamo che se si può dire una catarsi dal punto di vista lavorativo sì perché mi sono detto forse sono in grado dopo tanto tempo che scrivo di scrivere questa cosa quindi il mio timore di non riuscire a farlo è stato catartizzato dall'averlo fatto grazie mille per essere stato con noi grazie a voi Tommaso Giartosio, premio Strigo 2024, autobiogrammatica, edito Minimum Fax grazie per essere qui con noi, le chiedo una breve sinossi del suo libro autobiogrammatica è un esperimento di autobiografie in un'epoca in cui siamo travolti dalle autobiografie i memoir, le autofiction sono un po' dappertutto allora l'idea era di provare a raccontare la vita di una persona a partire dalle parole che l'hanno formato o deformato quindi le parole della famiglia, dell'ambiente in cui è cresciuto della classe scolastica, del mondo culturale dell'amore, dell'insulto, della poesia, delle lingue straniere e via dicendo in che modo ci hanno formato e hanno fatto sì che noi siamo quello che noi siamo le parole ci formano, le parole ci vestono le parole derivano dall'ambiente in cui siamo cresciuti in cui abbiamo vissuto e quindi le chiedo le parole ci definiscono ma è sempre vero che le scegliamo noi o derivano anche dall'esterno? io credo che la costruzione di un linguaggio sia sempre una sorta di negoziato che noi facciamo con le parole che riceviamo per esempio in un capitolo dell'autobiogrammatica parlo a lungo di come ci sia un complesso linguaggio che mi viene da mia madre soprattutto che è un linguaggio che porta con sé dei valori delle scale di giudizio sulle persone eccetera che a un certo punto devo integrare o meno ma la cosa è ancora più interessante perché ovviamente anche lei che me lo sta passando sta cambiando nel corso del tempo perché passano i decenni passano le stagioni politiche del nostro paese e per di più è una donna colpita dall'Alzheimer per cui pian piano il suo linguaggio si disfa, si sgretola allora il modo in cui tutto questo trasforma il rapporto tra di noi e il nostro uso delle parole che originariamente mi aveva lasciato in eredità è qualcosa che mi affascina molto ma qualcosa del genere vale anche in politica quando mi trovo al liceo negli anni delle lotte politiche devo vedere cosa fare di un linguaggio di sigle, di slogan che mi arriva dall'esterno davanti al quale c'è la mia tendenza magari a fuggire da quel linguaggio a rifugiarmi nel silenzio oppure nel nonsense, nelle parole inventate che è una fuga ma è anche un gesto creativo insomma è veramente una faccenda piuttosto complicata ed è molto divertente, interessante e a volte drammatica da raccontare grazie mille per essere stato con noi grazie a voi Raffaella Romagnolo, premio Strega 2024 Aggiustare l'universo, edito Mondadori le chiedo una breve sinossi del suo libro Allora la storia principale del mio romanzo è ambientata nell'anno scolastico 1945-1946 quindi il primo anno scolastico dopo la fine della guerra un anno quindi che parte diciamo così sulle macerie come anche c'è sulla copertina per cosa? Per ricostruire, per provare a ricostruire il futuro un futuro naturalmente spezzato dalla grande tragedia che è stata la seconda guerra mondiale per il nostro paese ma per l'Europa intera e lì le protagoniste principali sono una maestra una giovane donna che si chiama Gilla è una bambina che è una bambina misteriosa perché si presenta al primo giorno di scuola e sembra molto competente sa fare tante cose in quinta elementare ma non parla, non dice una parola in questo silenzio c'è come dire tutto il trauma che il vissuto precedente, un vissuto bellico ma per la bambina anche un po' prima ha pesato su di lei e questo incontro dopo la guerra dopo un evento così drammatico le due protagoniste, la maestra Gilla che vuole quasi liberarsi di questo passato non pensarci mentre Francesca spera che torni perché spera che torni a prenderla questo binomio, questo rapporto naturalmente tutte e due fanno i conti in modo diverso, con modalità diverse con il loro vissuto la giovane maestra Gilla ha vissuto da grande ormai i bombardamenti lo sfollamento e poi l'esperienza nella lotta di liberazione nella lotta partigiana nel caso della bambina invece si scopre quasi subito che si tratta di una bambina ebrea quindi il suo vissuto è segnato non solo dalla guerra ma prima ancora dalle leggi razziali che io preferisco chiamare razziste e che hanno fortemente ristretto, condizionato e poi colpito pesantemente la sua famiglia grazie per essere stato qui con noi grazie, grazie a voi Donatella di Pietrantonio Premio Strega 2024 L'Età Fragile Edito e in Audi le chiedo una breve sinossi di questo libro L'Età Fragile riprende un episodio di cronaca accaduto negli anni 90 nella mia terra per rinominarlo con le parole dell'oggi e quindi ci sono due linee del tempo una quella di allora il racconto ci viene sempre fatto dalla voce di Lucia che era giovane ai tempi del cosiddetto delitto del Morrone e poi c'è una linea del tempo nel presente in cui Lucia ha a che fare con la crisi il ritiro di sua figlia Amanda e con una scomoda eredità che il padre vuole lasciarle anzitempo L'Età Fragile non è un punto esatto della nostra vita ma è la vita stessa tutta la vita è fragile come si racchiude anche dai personaggi di questo libro che quasi pretendono di poter avere una propria fragilità che cos'è la fragilità per lei? La fragilità credo che sia proprio insita nella condizione umana in quanto esseri mortali con una durata limitata abbiamo oltre a questo limite ultimo abbiamo anche a che fare con la fragilità e quindi questo significa che in ogni fase della nostra vita noi siamo soggetti all'inciampo a un caso fortuito che può farci cadere, soffrire e come dice Lucia persino morire anche da giovani Grazie mille per essere stata con noi Grazie Paolo Di Paolo, Premio Staglio 2024 Romanzo Senso Umani, Edito Feltrinelli una breve sinossi del suo libro e il ruolo dell'attenzione? L'attenzione credo che sia il punto essenziale sia nella scrittura che credo nella vita c'è questo personaggio che è uno storico diciamo di mezza età anche se è una mezza età forse più simbolica che reale che arriva su un lago mitteleuropeo il lago di Costanza un lago che quattro secoli e mezzo fa aveva vissuto nella piccola età glaciale un congelamento molto duraturo lui è affascinato da quell'estremo climatico diventa un'indagine sulla sua propria memoria sulla ricostruzione dei ricordi ma anche e soprattutto forse sugli sbalzi climatici della nostra vita e quindi quando a un certo punto deve trovare un cuore rispetto alla sua riflessione viene fuori l'esercizio dell'attenzione dice a se stesso, si sente dire stai più attento è tutto quello che conta ecco credo che per essere scrittori l'attenzione sia imprescindibile ma anche forse per essere fino in fondo vivi l'attenzione sia imprescindibile grazie mille, grazie per essere stato con noi